Oggi è stato un incontro sicuramente importante, interlocutorio perché siamo ancora in una fase interlocutoria. Sono emerse alcune problematiche che però pensiamo di poter risolvere al più presto nell'interesse dei lavoratori perché noi ovviamente abbiamo l'impegno e l'obbligo morale di giocarci tutte le carte per vedere rioccupate più persone possibile all'interno dell'area. Nello stesso tempo abbiamo anche la necessità di vedere partire al più presto il progetto industriale che potrebbe appunto sbloccare questa situazione.